L'autopsia non aiuta semmai contribuisce ad infittire il mistero. Gli inquirenti confidano ora nell'esame tossicologico. Solo da questo spiegano potrebbe essere possibile stabilire con quasi matematica certezza quali siano state le cause della morte di Angela Sciascia, di 82 anni, e Giuseppe Tricarico, di 55. Trovati cadaveri nell'abitazione al primo piano di Corso Matteotti, poco lontano dal centro di Minervino Murge. L'una in cucina, l'altro in camera da letto. Nessun segno di violenza sui corpi, niente medicine o veleno nelle vicinanze. meno che mai odore di gas per un cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Nulla di nulla, tantomeno segni di effrazione o scasso alla porta d'ingresso della casa, chiusa dall'interno con la chiave. I carabinieri coordinati nelle indagini dal magistrato Marcello Catalano non sanno darsi delle spiegazioni plausibili. Non si esclude neanche quella della morte causata dall'intossicazione alimentare provocata da cibi avariati o scaduti. Le due mittime vivevano insieme, lei gravemente malata, lui invalido, in passato qualche problema con la giustizia. Una vicina lo ha visto il giorno della vigilia di Capodanno. È stata una parente lontana a dare l'allarme al 112. Dopo che ha telefonato per tutta la giornata, nessuno ha mai risposto. Voleva fare gli auguri di Capodanno. Madre e figlio erano già morti.